Sei motivi per cui un uomo ti cercherà? Cara malghacciona! Allora, il primo motivo è che deve vivere una sfida. La sfida può viverla o con un antagonista, cioè una persona che, diciamo, gli metti il bastone tra le ruote, un altro uomo fondamentalmente che ti desidera, oppure con te, che sei un oggetto di desiderio, quando diventi sfuggente. E qua vatti a vedere i miei video, perché ci sono... puoi utilizzare o l'antagonista o l'altro, a seconda del tipo di personalità dell'individuo. Ma lo spiego, ad esempio, nei miei corsi su YouTube, con l'abbonamento base, canale Massimo Tramasco. Questo è quindi il primo motivo. La sfida. Il secondo motivo è, diciamo, saper gestire al meglio, tu devi saper gestire al meglio e desiderare il possesso. Anche qua devi capire se un uomo che si aggancia più sul possesso, cioè se devi farti comunque un po' possedere, ma comunque attraverso il punto uno devi farti desiderare, ovviamente questo è fondamentale. Quindi calibrare al meglio il desiderare il possesso è quella cosa che lo farà, gli darà il dubbio, e il dubbio lo farà inseguire. Il terzo punto è il fatto che tu non gli dai, finché non dà lui a te, e crei questo meccanismo, per cui lui inizierà, una volta che l'hai stimolato, a investire, e quindi più investirà, più si coinvolgerà. E tu darai soltanto dopo. Lo tratterai un po' come tratti cavalli da salto, che lo zuccherino lo prendono dopo. Perché se tu gli dai lo zuccherino prima, poi se tu gli dai prima, col cavolo di quello salta. Questo è fondamentale. Il quarto punto è il fatto che tu sei misteriosa. Anche qua, essere misteriosa genera dubbio. Il dubbio è una regola aurea della seduzione. Se un uomo ha dei dubbi, tendenzialmente vuole accertare, vuole capire come mai è capitata questa cosa. E quindi questo è un punto fondamentale. Il mistero, sii misteriosa, e lascia che lui ti scopra piano piano. Il quinto punto è stimolare il suo istinto, quindi attraverso la sessualità. Ma stimolare vuol dire essere femminile, presentarti al top come femminile, non come puttanone da corsa. Come femminile, come donna in grado di essere stimolante, di fargli venire voglia, e poi tenere presente che gli uomini si innamorano desiderando di fare l'amore, non facendoli. Anche quando glielo farei fare, in modo molto intenso e passionale, poi dovrai sparire per un po', per ricreare, rigenerare subito il desiderio. E il sesto punto è farti vedere come la donna giusta, la donna che presenterebbe la madre, quindi ricalcare i suoi valori, ricalcare le sue credenze, se non sono troppo diverse dalle tue. Anche la parte logica vuole il suo contentino, diciamo così. Ecco, questi sono sei modi, sei motivi per cui un uomo ti cercherà. Seguimi su Instagram, Massimo Terramasco Ufficiale, su TikTok e ovviamente sui miei canali YouTube, Massimo Terramasco e tutti gli altri. Grazie.